Il mio lavoro è incentrato principalmente sull'uso dei codici informatici per scopi creativi. Le mie produzioni toccano campi diversi come l'arte generativa, la net art, l'arte urbana o l'archeologia dei media. Creo delle opere usando il web come strumento, ma anche installazioni interattive nello spazio fisico, o creazioni più concettuali o anche performance sonore e visive. Mi ispiro alle culture popolari, come sono le molte culture geek o di internet, i graffiti, gli oggetti digitali vintage. La mia carriera mi ha portato a creare dei collettivi, la filiale francese del Graffiti Research Lab nel 2011, la Dead Minite L'Orchestra nel 2013, e Internet of Dead Teams Institute nel 2018. Sono anche coinvolto nel gruppo di lavoro di Snovation.org dal 2016. Uso principalmente software ed elettronica open source processing o Arduino ad esempio, e cerco di realizzare progetti con una certa economia di mezzi. Per questo prediligo sistemi economici o soluzioni che consumano poca energia, o addirittura elementi riciclati o reinterpretati. Il mio lavoro più recente si concentra sul Minitel, un dispositivo funzionante sia come terminale che rete del pre-worldwide web distribuita in Francia negli anni 80 e demolita il 30 giugno 2012 dopo la disconnessione della rete proprietaria su cui si basavano i suoi servizi. Io, attraverso vari progetti, ho ideato e sviluppato soluzioni volte a dargli una seconda vita, toccando così qui il campo dell'archeologia dei media. Prima l'ho usato come ambiente per foto a bassa tecnologia, poi come strumento di performance visiva e sonora all'interno del collettivo The Dead Minitel Orchestra e infine, tramite il collettivo IODT, il Minitel trova una seconda vita sotto forma di linguaggio Linux connesso a internet, sul quale si può navigare sul web in modalità testo, chattare, giocare a Worms o Tetris, ascoltare la radio in streaming. Questo progetto è stato esposto sotto forma di pop-up store, offrendoci un'occasione per riprendere, in modo ironico, i codici di comunicazione e il comportamento delle start-up nei confronti dell'innovazione tecnologica a tutti i costi. Il progetto che presento qui per la prima volta è stato avviato quattro anni fa, nel 2017, quando ho messo in piedi un robot software che, da allora, ha immagazzinato e trasformato più di 250.000 immagini prese dall'attualità e da varie fonti di informazione. Questi contributi modificati, qui assemblati in un video, ci presentano un flusso continuo di immagini, ricco in colori, e personaggi vari, associati a forme ultra pixel. Abituati a questo continuo scorrimento di informazioni sui nostri schermi, qui si distinguono, decontestualizzati, soggetti, celebrità, luoghi, che mettono in dubbio il nostro rapporto con le immagini e le informazioni. Il video è accompagnato da una colonna sonora generata dalle parole che compongono i titoli degli articoli da cui sono tratte le immagini. Ogni parola viene pronunciata una sola volta e la durata del file audio viene regolata per corrispondere alla durata totale del video. Questo progetto si chiama, Aghetti Images, una contrazione di Aghetti, un gestore di terminali Linux, e Ghetti Images, il database di immagini. Il video seguente presenta un riepilogo di 15 minuti delle 3 ore e 30 minuti rappresentate dalla somma delle immagini accumulate fino ad oggi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.